Buon pomeriggio a tutti, canale 2C, dopo il Tg, anche questa settimana è volata, siamo arrivati alla puntata del venerdì, vi presento subito l'ospite che abbiamo con noi in studio, con il quale parleremo di un argomento davvero interessante per il nostro territorio, si chiama Gerardo Centoducati, lo vedete inquadrato, è un ricercatore universitario, ma è anche Presidente dell'Associazione di Valorizzazione e Tutela della lenticchia di Altamura IGP. L'avete già visto nel nostro telegiornale, ha un po' parlato di quello che è accaduto, ma in questa rubrica cerchiamo di approfondire questo grande risultato che avete ottenuto dopo tanto lavoro, non è che si arriva così dalla mattina alla sera, ok domani tiriamo fuori la lenticchia IGP, intanto come mai è nata questa volontà di mettere sul mercato con il nome IGP un prodotto che ha un grande valore storico come la lenticchia di Altamura? Come mai? Il merito di questo ce l'ha sicuramente il Professor Franco Stasolla, che per mesi, sì, sette mesi mi ha, io dico mi ha torturato, è stato quasi uno stalker per me, mi ha chiesto veramente in più di una occasione, in tantissime occasioni, mi ha chiesto di iniziare, di avviare il percorso in modo tale da poter riuscire a, o meglio poter tentare di riuscire ad ottenere l'IGP. Il buon Franco Stasolla c'è da dire che nel 2007 aveva registrato già la lenticchia di Altamura tra i prodotti agricoli agroalimentari legati al territorio, tra i PAT per la regione Puglia, quindi un primo passo era stato fatto nel 2007. Un'IGP è davvero un po' più complicata, per cui c'era necessità di essere uniti, di lavorare in tante persone. Franco Stasolla ha dato il là, ma il merito non è il mio, non è di Franco, il merito è di 65 agricoltori che si sono messi assieme e che hanno lavorato con un grandissimo spirito di collaborazione. Accanto a questi 65 agricoltori abbiamo avuto il piacere, la fortuna di condividere questo percorso con il Galtere di Murgia, con il comune di Altamura, con il comune di Poggiorsini e con quello di Spinazzola che da subito ci sono stati vicino in questo percorso. L'Università degli Studi di Bari, che è il mio datore di lavoro, è l'Università della Basilicata. Il distretto dell'agroalimentare ha contribuito anch'esso a... Allora, partiamo con l'ordine. La lenticchia di Altamura, per quanto riguarda il territorio di Altamura, ha un valore storico importante. Altamura all'inizio del secolo era la sua economia, almeno molti dicono, si leggeva sulle tre L, lino, lana e lenticchia. Tant'è che proprio di Stasolla, della famiglia Stasolla, c'erano dei contenitori sui quali si poteva capire che questo prodotto veniva addirittura esportato in Cina, in America, quindi si vociferava anche di una quotazione in borsa e su questo non so... Quotata in borsa merci Bologna, quotata in borsa merci Foggia. Abbiamo trovato documentazione storica di cessioni della... è stata ceduta la lenticchia di Altamura come ecotipo all'Istituto del germoplasma degli Stati Uniti d'America nel 1964, nel luglio del 1964. Questo perché per noi è stato un passo importante in tutto il lavoro svolto, oltre a tutta la storia, ovvero il legame con il territorio, le importantissime produzioni, questo momento è importantissimo perché il germoplasma statunitense ottiene da noi, ottiene da Castelluccio le lenticchie e questi due ecotipi entrano a far parte di quello che è il genoma delle varietà che oggi noi importiamo dagli Stati Uniti, che sono state registrate negli Stati Uniti nel Canada, parlo di Aston, di Laird, di Regular, c'è del genotipo del nostro prodotto. Nella lenticchia canadese c'è proprio tutto il DNA, c'è tanta roba, erano state fatte delle donazioni anche dal prodotto turco, ha fatto parte anche la nostra lenticchia della costituzione di alcune importantissime varietà oggi prodotte in tutto il mondo. Sicuramente dagli anni 30 è partita la produzione di lenticchie di Altamura, gli anni 40 e 50 sono stati gli anni di maggiore produzione probabilmente, si è arrivati a 70-80 mila quintali di prodotto, il prodotto serviva sia per il consumo nazionale che per l'esportazione, si esportava in Canada, si esportava negli Stati Uniti, si esportava in Astrali, in Germania, in tutto il nord di Europa. E allora veniamo ad oggi, qui abbiamo alcune immagini che si riferiscono ad un incontro preliminare nel quale avete più o meno cercato di trovare le intese con questi 60 passaproduttori che sono produttori pugliesi e lucani, perché il territorio della lenticchia di Altamura, IGP è un territorio che si sovrappone al parco della Murgia, quasi in toto, mancano solamente tre comuni e poi avete preso quei comuni lucani confinanti con la Puglia, comuni all'interno dei quali troviamo molti imprenditori altamurani che hanno lì aziende agricole e grossi appezzamenti. Sì, dire che abbiamo preso è forse erroneo, abbiamo dimostrato al Ministero che venivano già negli anni 40 e 50 prodotte la lenticchia di Altamura anche in quel territorio. Eccolo qui, qui abbiamo proprio una foto che ci ripropone tutto il territorio della lenticchia Esatto, i nostri agricoltori, oltre a coltivare la terra sul costone murgiano, quindi da Andria a Santeramo in Colle, passando ovviamente per Altamura, si spingevano o con contratti di affitto, di locazione o successivamente in acquisto, si spingevano poi nel versante lucano. Mio nonno in primis, mi piace sempre ricordarla questa cosa, lui aveva dei terreni in affitto alle grottelline prima, quindi al confine tra Poggiorsini e Spinazzola e poi ha acquistato dei terreni in Irsina, quindi l'azienda che oggi io conduco, che oggi conduciamo, io e mia moglie, è un'azienda che rinviene dai miei nonni, quindi negli agri di Genzano, di Lucania, da un lato e di Irsina dall'altro. Questo, così come l'hanno fatto i miei nonni, l'hanno fatto tanti altri nostri predecessori, lo continuano a fare quindi tanti nostri imprenditori. Sicuramente però il Ministero aveva necessità, e l'Unione Europea oggi ha necessità, di avere contesti, di avere dimostrazione che il territorio che noi abbiamo indicato sia, dal punto di vista storico, sempre stato coinvolto in questa produzione e questo l'abbiamo dimostrato. Così come dobbiamo dimostrare anche che il territorio, così come il nostro clima, l'orografia del territorio, la struttura del territorio, il nostro clima, riescono a conferire delle particolari caratteristiche a questo prodotto, a questo prodotto eccellente. Allora, parliamo adesso di quella che è una situazione numerica, perché spesso vengono da alcuni recepiti, diciamo, la titolazione dei prodotti GP, DOP, dal mercato degli intenditori viene vista come qualcosa che certifica la qualità e la genuinità, molti la vedono un po' come una cosa burocratica italiana, però all'interno del mercato italiano c'è una grande area di business, per esempio oggi in Italia quante lenticchie si consumano e quante ne produciamo e ne possiamo produrre noi? Sì, prima di parlare di questo, però se mi permetti, Felice, a me farebbe piacere fare il paragone con alcune importanti produzioni, quando parliamo di parmigiano reggiano, di grana padano, dei vini DOC e IGP che abbiamo, dell'aceto balsamico, qui capiamo che la gran parte dell'export, la gran parte delle produzioni che vengono riconosciute come produzioni di grande qualità sono produzioni legate e marchiate, legate al territorio e marchiate con una denominazione di origine protetta con un'indicazione geografica protetta. Questo serve innanzitutto a tutelare il consumatore, sicuramente perché sa che cosa sta mangiando e sa che il prodotto deve essere certificato, deve essere tracciato e deve garantire al consumatore determinate caratteristiche colettivative, sicuramente però garantisce anche il produttore che non vede svalutato il proprio prodotto, inflazionato il proprio prodotto, non vede il proprio prodotto come una commodity, come avviene per il grano o per tanti altri prodotti, questo è quello che ci si auspica, questo è quello che è l'obiettivo con cui siamo nati. Parlando invece dei numeri di cui mi avevi chiesto, quindi della produzione, noi consumiamo solo come granella secca, parlo del pacchettino, quindi il prodotto che la massaia torna a casa e cucina, consumiamo circa 300.000 quintali all'anno, c'è poi il prodotto da industria che fa dei numeri straordinari, spaventosi, ma non lo menzioniamo neanche. Ebbene il 98%, il 97% di questo prodotto fino a soli due anni fa era di origine canadese. Con la produzione che noi abbiamo avuto già lo scorso anno, lo scorso anno sono stati investiti nel nostro territorio per il lavoro che stiamo facendo noi come associazione, per l'interesse che si sta generando, per il lavoro che stanno facendo alcuni commercianti che stanno comunque effettuando dei contratti di semina e quindi si impegnano con gli agricoltori ad acquistare il prodotto ad un prezzo minimo garantito, sta esplodendo questa produzione e lo scorso anno sono stati seminati circa 4.000 ettari di terreno a lenticchieri Altamura, parliamo del doppio dell'intera produzione nazionale di soli due anni fa. Si è prodotto circa 45.000 quintali di prodotto. Sui 300 mila che si consumano capite bene che quest'anno oggi siamo nel periodo delle semine, era importantissimo per noi ottenere il riconoscimento delle IGP nei confini nazionali da parte del Ministero, questo l'abbiamo ottenuto con un decreto ministeriale del 24 di novembre, quindi qualche giorno fa, era importantissimo perché questo è il primo anno in cui si può produrre lenticchieri Altamura per l'ottenimento dell'IGP e si stanno certificando le semine. La mia stima, i numeri reali te li potrò dare a febbraio, primi di marzo quando si terminano le semine, però prevedo che ci saranno grossomodo intorno a 10.000 ettari di superficie investite a questa cultura per il prossimo raccolto. 100.000 quintali, oltre un terzo del nostro consumo nazionale. Ma è facile collocare la lenticchia sul mercato? Mi pongo questa domanda perché ne parlate come se è una cosa tranquilla. La nostra lenticchia accosta al consumatore finale, garantendo agli agricoltori dei prezzi minimi, che sono quelli che sono stati concordati già da 2-3 anni, esce sul mercato con 30-40 centesimi in più rispetto al pacchetto da mezzo chilo rispetto al prodotto canadese. Eppure i dati che abbiamo dal gruppo Megamark, per esempio, che ha 380 supermercati in 5 regioni d'Italia, la lenticchia di Altamura è la prima lenticchia venduta che è superata abbondantemente la lenticchia canadese. Superata significa che si vende circa il doppio oggi in questa catena di lenticchia di Altamura rispetto alla lenticchia canadese. Questi sono numeri che fanno comprendere quanto possa essere ampio il mercato. Devo dire che la grande distribuzione sta rispondendo molto molto bene e sta accettando e apprezzando molto questo prodotto, che è diverso, è differente, ma non perché è un prodotto, tutti i prodotti nazionali, io dico che è un prodotto straordinario rispetto al prodotto importato, non fosse altro per il fatto che il prodotto importato viaggia un mese nelle nostre navi, in navi ed è chiaro che viaggia con determinate condizioni di umidità, di acqua di mare, per quanto bene lo si possa trattare, di fatto un prodotto consumato nel luogo di origine, se si va negli Stati Uniti bisogna mangiare assolutamente il prodotto Stato Unito, se si va in Canada bisogna mangiare la lenticchia canadese e non la nostra esportata, perché la nostra perderebbe di qualità probabilmente. Diciamo che la circolazione delle merci nell'anno di rivieni è un qualcosa alla quale puntate anche voi, perché adesso con l'ottenimento dell'IGP a livello comunitario… In Europa viaggia, arriva in Germania il nostro prodotto in 24 ore, viaggia su ruoti, viaggia sui rotali… Se non sta un mese nelle stive delle navi… Ma no, viaggia in big bag, chiusi, sigillati, ma non è la più assoluta, viaggia già, il prodotto è già molto molto apprezzato e la scelta poi la fa il consumatore, che ritorna ad acquistare quel prodotto perché si rende conto che è diverso, è completamente diverso. Un'altra domanda, la lenticchia, quella nostra è IGP, che dimensioni dovrebbe avere più o meno? Allora, la più famosa era la lenticchia gigante, quella che ha reso famosa la lenticchia d'Altamolo è stata la lenticchia gigante, che era quella che veniva richiesta dal mercato statunitense, canadese, australiano, tedesco, piuttosto che dei paesi scandinavi. In realtà veniva prodotta della lenticchia che era di diversi calibri, veniva calibrata e il prodotto più piccolo veniva utilizzato per la zootecnia o veniva utilizzato come reimpiego nella semina. Oggi il mercato vuole, predilige la lenticchia un po' più piccola, la nostra lenticchia di fatto è una lenticchia innanzitutto a colore verde, non può essere rossa, ed è una lenticchia che ha due calibri, è una medio piccola e una medio grande, di fatto non parliamo di macrosperme e di microsperme. La questione importante è che non si può, ottenuto l'IGP, non si può andare ad aggiungere lenticchia grande, lenticchia gigante, lenticchia migno, non si può fare, è lenticchia di Altamura. Poi ci sarà la scelta dell'agricoltore o la scelta dell'acquirente, andranno in una direzione piuttosto che in un'altra e quindi si sceglierà una varietà che è un po' più piccolina, una varietà che è un po' più grande, ma di fatto le caratteristiche intrinseche del prodotto rimangono le stesse in termini di proteine, di ferro. Molti consigliano di mangiare legumi almeno una volta a settimana, ecco le proprietà della lenticchia sono oramai già consolidate, però magari vogliamo dare questa informazione a chi non è ancora informato su quelle che sono le proprietà. Sì, è un alimento molto proteico, quindi io non parlo mai di sostituire, sostituzione alla carne, è un ottimo alimento proteico, contiene molta fibra e quindi aiuta la motore intestinale, è ricchissimo in tanti sali minerali, ricco in vitamine, è ricchissimo in ferro in particolare come microelementi, sicuramente ha come tutti i legumi delle sostanze anti-nutrizionali sulla propria parte esterna, sulla cuticola, per cui andrebbero messi in ammollo, bagnati anche una mezz'oretta, oppure in cottura andrebbe cambiata, sostituita l'acqua di cottura, come fa quella grande donna di mia suocera, cambia l'acqua di cottura e questo lo fanno senza, molte persone lo fanno senza rendersi conto del perché deve essere fatto. Quindi le due pentole contemporaneamente? No, la stessa pentola, si scola quel prodotto e poi si mette dell'altra acqua bollente lì dentro, questo immediatamente dopo, oppure una semplice mezz'oretta in ammollo, non serve perché non ha bisogno dell'ammollo, l'enticchia a differenza del cecio, del fagiolo, per facilitarne la cottura, ma semplicemente perché va ad eliminare delle sostanze antinutrizionali che possono eventualmente nuocere. Riepilogando, perché questa è una tecnica che non conoscevo, io faccio bollire l'enticchia nell'acqua bollente, contemporaneamente faccio bollire una seconda pentola e quindi passo l'enticchia, scolo l'enticchia e la rimetto in quell'acqua che sta bollendo e lì ci aggiungo del sale, questo è quello che fa mia suocera e io mangio solo con l'enticchia. È una novità che non conoscevo, ecco perché tutto serve per capire e questo migliora cosa? Perché toglie un po' di sostanze esterne? Elimina delle sostanze antinutrizionali che contengono tutti quanti i legumi, compreso l'enticchia. Un'altra cosa importante quando si consumano i legumi è che i legumi, siccome sono molto ricchi di ferro, l'enticchia in particolar modo, il ferro viene assorbito in maggiore quantità nel momento in cui viene assimilato dall'organismo anche della vitamina C, per cui è consigliabile a fine pasto mangiare anche un'arancia, mangiare dei mandarini, delle arance. Mangiare agrumi? Mangiare agrumi a fine pasto aiuta l'assorbimento, facilita l'assorbimento del ferro che si è ingerito con le lenticchie o con tutti i legumi. Anche questo è molto bello, io ogni tanto invito il dottore in campo che mi spiega un po' le associazioni dei cibi, quindi mi diverto. Quindi è importante sapere che se mangi lenticchie dopo devi mangiare una... Se lo fai assimili più farlo. Perché in questo modo si migliora, è un po' come dicevano i romani, dulcis in fundo, dopo aver mangiato la carne per bruciare i grassi avevi bisogno degli zuccheri e quindi mangiare i dolci significava aumentare quel processo di combustione. Sì, poi è importante, a me fa piacere parlare di questo, poi perché? Perché la lenticchie GP, per essere lenticchie GP, deve garantire un minimo quantitativo di ferro che è un quantitativo abbastanza elevato, per cui è un peccato poi non assimilarlo, insomma, nel momento in cui si fa tanto in campo. Vabbè, abbiamo acquisito due novità in questa dimensione, quindi bollire le lenticchie con due pentole... O metterle in a modo. Proveremo e quindi è quella degli agrumi dopo le lenticchie, in questo modo si va a potenziare il beneficio che l'organismo potrebbe avere quando mangiamo appunto le lenticchie. Bene, noi ringraziamo Gerardo Centoducati, come ho detto in apertura, è un ricercatore universitario del Presidente della, per il momento, Associazione Diva. Solo per il momento. Per il momento, perché fra poco diventerete consorzio. No, diventeremo consorzio, ma di certo non sarò il Presidente, non posso avere delle cariche per il lavoro che faccio, per il mestiere che faccio in università, in un'associazione mi è concesso, mi è consentito, ma il consorzio sarà guidato da agricoltori che avranno l'opportunità di rientrare in un Consiglio di amministrazione. Come giusto che sia, come... Assolutamente, assolutamente. Ringraziamo quindi Gerardo Centoducati, ringraziamo voi per averci seguito, facciamo gli auguri di Buon Natale, Anno Nuovo, fra un po' arriva il 2017, che sarà certamente un anno importante. Mi raccomando a consumare le lenticchie di Altamura per il cenone dell'ultimo dell'anno. Ed obbligo, Cerone, Leticchia, IGP di Altamura e quindi prossimo anno avremo quindi le confezioni sul mercato di tutta Europa. Speriamo, speriamo il prima possibile. Eh ma vedo che siete abbastanza... andate con molto ritmo e energia e quindi avete un obiettivo ben preciso. Sì, cerchiamo di lavorare assieme, questo facilita il compito di tutti, da soli saremo stati molto più lenti due o tre persone, siamo in tanti, per cui una mano ciascuno, siamo rapidi. D'accordo, è tutto anche per questa settimana, Canale 2 c'è, il sabato e la domenica come sapete si riposa, però in queste due giornate trasmettiamo le repliche di questa settimana, quindi le puntate che non avete potuto seguire da lunedì al venerdì. avrete la possibilità di rivederle nel weekend. È tutto amici telespettatori, ci vediamo lunedì.